Maria, questa è una voce di San Mantini, vinta questa figlia alla croce di Capenni. Pugnateci la scala e quando scende, quando ci vanno per questa carne. Chiamatemi Giovanni, che lo voglio, quando mi sono un po' con il consiglio. Guardateci, lo vennero a mio figlio, con l'acqua del mare, se lo voglio. Guardateci, lo vennero a mio figlio.